Benetton salva Carige, in cambio la Lega gli lascia autostrade. Intercettazione di fine ottobre 2018 tra il presidente della Liguria Totti e l'allora amministratore delegato di autostrade per l'Italia. Totti dice a Castellucci, amministratore delegato di autostrade per l'Italia, una volta che tu, Castellucci, lo chiama Gianni, sono in confidenza, tu mi dici che c'è la disponibilità, io ci parlo con Giorgetti e Salvini per dirgli che è una cosa ovviamente concordata. Avete capito quello che vi ho detto? Al telefono, mentre il sottoscritto sputava sangue e con le unghie e con i denti stava scrivendo il decreto Genova per far tornare in piedi Genova e i cittadini di Genova e per far rimettere in piedi il prima possibile il nuovo ponte, ce l'abbiamo fatta, questi signori stavano al telefono e dicevano che provavano a fare uno scambio Castellucci che convinceva i Benettoni a mettere i soldi per salvare Carige, in crisi una banca ligure che interessava Totti e poi però in cambio Totti si faceva un persuasore, faceva moral suegio nei confronti della Lega affinché non revocasse la concessione di Benetton, tanto voluta giustamente dal Movimento 5 Stelle. Questo è lo schifo che sta uscendo dall'inchiesta che oggi ha portato all'arresto dell'ex amministratore delegato Castellucci e di altri cinque dirigenti, l'inchiesta scandalosa che fa vedere come puntassero quello che vi abbiamo sempre detto, non vi abbiamo mai mentito, puntassero solo al profitto facendo diminuire le manutenzioni, lo dice addirittura oggi, lo dice addirittura l'amministratore delegato di edizione holding Gianni Mion vicino a quel girberto Benetton, alla famiglia Benetton, quella holding che conteneva Atlantia, che conteneva Aspi, cioè che comandava, virgolettato, le manutenzioni, intercettato anche quel signore qua, si domandava, le manutenzioni, più passava il tempo meno ne facevamo, così distribuiamo più utili e Gilberto Benetton e tutta la famiglia erano contenti. Io mi sono, il Movimento 5 Stelle si è messo contro questo sistema, non aveva paura, ma io ve l'avevo detto, ve l'ho sempre detto e non tutti voi mi avete creduto, la Lega non ha mai voluto revocare la concessione di Benetton e sempre nell'articolo che trovate su internet di Fanpage c'è scritto che la Lega emerge che oltre a Totti, la Lega è un interlocutore privilegiato in questa operazione di scambio, salvo la banca Carige attraverso la Lega, i Benetton vengono salvati nel mantenere in mano le autostrade e in una telefonata di poco prima, cosa dice? Il presidente di Carige Pietro Modiano aveva informato Castellucci che anche loro stavano proseguendo su questa strada, su questa pista e avevano virgolettato, visto Garavaglia allora sottosegretario della Lega che ne parlava con Salvini, il quale ne parlava con Di Maio per dire amici o mettete i soldi o lasciate i Benetton mettere i soldi, noi non gliel'abbiamo permesso e grazie a Dio che è finito il governo con la Lega perché non saremmo riusciti neanche a cacciare i Benetton attraverso la cacciata da Atlantia con il subentro dello Stato, noi, io avevo voluto assolutamente la revoca come tutto il Movimento 5 Stelle ma si serviva una maggioranza che la Lega non ci ha dato e a tutti quelli che mi scrivono su Facebook da quando siamo al governo con PD o che magari mi trovano per strada e mi dicono sei un traditore, non avete capito un cazzo, non siamo i traditori e oggi possiamo dirvi che col PD abbiamo potuto fare una cosa che non è quella che volevamo, cioè la revoca fatta tanto tempo fa, ma di cacciarli Benetton, non ci saremmo riusciti con la Lega, state attenti, ragionate con la vostra testa, abbiate fiducia in noi, abbiamo sempre combattuto questo sistema e sempre lo combatteremo, quelli che invece inciuciavano con questo sistema erano altri, quelli che urlano nelle piazze, contrastano il governo nelle parole, vi dicono cose buone ma nei fatti fanno solo i cazzi propri, state attenti, noi siamo persone oneste e perbene dalle altre parti, persone come quale nel Movimento 5 Stelle, non ce ne sono, tenete bene gli occhi aperti, noi ci saremo sempre a difendervi, ma abbiamo bisogno del vostro appoggio e che voi continuate ad avere fiducia in noi, questi fatti dimostrano che la fiducia dovete continuare ad averla.